No, io dico che ci difendiamo da chi ci minaccia. Io, anche io sono un estimatore, fa dei disegni meravigliosi e quindi complimenti, però quando parla di... dice io ho un sistema di riferimento sociale, bene, ma se io aiuto qualcuno che viene aggredito, non lo faccio perché mi sento moralmente superiore all'aggressore, lo faccio perché credo in un sistema di valori che mi impone di difendere l'aggredito. Io credo che questo sistema di valori noi lo dobbiamo difendere. Ci sono 110 basi della Nato? Meno male, si chiama riconoscenza perché nel 1945 sono venuti gli alleati e ci hanno liberati dal nazifascismo. Ora, è come se noi dovessimo commentare le fosse ardeatine, bucia, e ci mettessimo a discutere eh, però i partigiani a Via Rasella li hanno proprio provocati questi nazisti, quindi hanno fatto bene ad ammazzare 10 italiani per ogni nazista morto. E' una fortuna che abbiamo 150...